26 delegati di istituti scolastici della Sardegna, Friuli, Liguria e Piemonte e 120 studenti sono stati impegnati durante gli scambi di studio in Argentina, Australia, Canada e Stati Uniti in una ricerca durata due anni sull'emigrazione italiana e sarda nel Novecento. Stamani, 31 gennaio, i lavori sono stati presentati al liceo Siotto Pintor di Cagliari nel corso del convegno Storie e Memorie, patrocinato dal Senato della Repubblica e finanziato dal Consiglio regionale della Sardegna. A rappresentare l'isola, gli studenti del Siotto, del Convitto Nazionale di Cagliari, del Galilei e del SATA di Macomera e del Pischeda di Bosa, nell'ambito degli scambi della rete Frisali World che promuove l'internazionalizzazione di studenti e docenti nel mondo. Nel corso delle esperienze all'estero, gli studenti italiani sono stati coordinati dagli insegnanti, in collaborazione con le ambasciate e i consolati d'Italia nei quattro paesi e dei circoli sardi. I nostri alunni e le nostre alunne hanno avuto modo, insieme a noi docenti, di intervistare i sardi all'estero, quindi i sardi presenti a New York. Una esperienza veramente interessante, anche perché i sardi all'estero rimpiangono la Sardegna e non soltanto la Sardegna dal punto di vista, diciamo, culturale e turistico, ma anche dal punto di vista dell'istruzione. È stata sicuramente un'esperienza incredibile, sia dal punto di vista linguistico, ma anche formativo e soprattutto umano, perché comunque ci siamo confrontati con delle persone che hanno vissuto in una realtà totalmente diversa da quella che è la Sardegna. Gli alunni e le alunne hanno avuto modo di frequentare la scuola a New York e anche lì hanno notato, anche i nostri studenti, che la nostra didattica è una buona didattica. Questo penso sia molto importante, il confronto che arricchisce e fa valutare in modo positivo anche la nostra didattica.